Musica Amici di Volumbrite, buonasera a tutti Eccoci qui oggi, piace darmi sul dialogo sulla salute Oggi abbiamo parlato di spazio reale L'ospiti di oggi è Elena Scappolla e poi Roberta Michelazzo Buonasera Mi rivolgo a Elena Scappolla Perché nasce il spazio reale e qual è l'obiettivo? Sicuramente nasce dal desiderio di dare ai ragazzi uno spazio altro Rispetto a quello del sostegno e dell'ascolto psicologico E quindi dargli la possibilità di incontrarsi con altri ragazzi Di stare insieme, di confrontarsi facendo Di conoscere anche altre realtà sul territorio Grazie A Roberta invece Qual è il senso di spazio reale in una città come Torino? Ma il senso in una città come Torino è proprio l'idea di poter essere uno spazio Che oltre a fare incontrare i ragazzi Dà l'opportunità di avere delle informazioni su quelle che sono i servizi E le opportunità che ci sono nella città di Torino Per cui proprio in una città grande come Torino E che offre così tante cose È importante poter avere un luogo in cui andare E sapere di poter trovare informazioni E persone che possono aiutarmi a cercare quello di cui ho bisogno sul mio territorio Grazie mille, grazie a tutti Buonasera Buonasera